Dopo l'attentato in Tunisia da parte dell'ISIS, molti si domandano qual è il grado di sicurezza nel nostro paese. Di fronte a atti di questo tipo sicuramente bisogna mettere in atto una prevenzione a 360 gradi. Alcuni di questi atti sono purtroppo imprevedibili. Naturalmente nel nostro paese tutto quello che è possibile fare in termini di prevenzione, mi scuso per la ripetizione dei termini, ma viene fatto sia da parte dei servizi che delle forze dell'ordine. Non possiamo garantire in assoluto che ci sia la certezza che non accada nulla. Sicuramente l'impegno è massimo perché la situazione è delicata. Delicato sarà infatti il tema sicurezza per quanto riguarda l'Expo? Delicato è il tema sicurezza per quanto riguarda l'Expo, sia nella fase di realizzazione che si sta concludendo, sia nella fase di gestione perché ci saranno vari momenti in cui leader, capi di Stato e di Governo verranno a visitare i loro padiglioni e quelli saranno momenti da gestire con molta attenzione. Sarà una manifestazione lunghissima per quanto riguarda la durata e quindi questi momenti saranno parecchi e dovranno essere seguiti in collaborazione con l'intelligence dei paesi interessati. C'è necessità di un maggiore controllo rispetto all'anno scorso? No, diciamo che rispetto all'anno scorso è cambiato il mondo. L'ISIS non era così forte e la minaccia dell'ISIS è una minaccia percepita anche dai cittadini. Quindi ci si attrezza, ci si adegua. Il Governo ha emanato un decreto legge antiterrorismo che a mio parere dovrebbe essere potenziato per quanto riguarda le attività preventive svolte dalla nostra intelligenza. Stiamo operando in questo modo, proponendo delle modifiche e delle integrazioni per dare degli strumenti molto più validi per affrontare tematiche così delicate che possono avere risvolti anche drammatici. La situazione rispetto all'anno scorso quindi è sicuramente diversa ed è necessario che ci sia un impegno aggiuntivo anche perché siamo di fronte a uno scenario completamente mutato e purtroppo mutato in peggio.